Ciao a tutti, sono Ronny Raponia Polverigi ed ora per augurarvi la buona Pasqua vi canto così un pezzettino a cappella senza ricordarmi neanche tutte le parole un pezzettino dell'Ave o Maria di Schubert cantata da Boccelli o comunque cantata in italiano Ave Maria Vergine del Cielo Sovrana di Gracia e Madre Pia che accogna la fervente preghiera non nega a questo straziato mio cuore prega il suo dolore Sperdotta l'alba mia si prostrate e attende che tu le dia la pace che solo tu sai donar Ave Maria Grazie, buona Pasqua a tutti Ronny Raponia Polverigi